bello a tutti raga qui è Miro ed eccoci qua nel video post partita di Bologna Cagliari finita con il risultato di 1-1 non è possibile, non è possibile non è veramente possibile, allora non parlerò tanto dei singoli perché c'è poco da di sostanzialmente bene o male la sufficienza la diamo più o meno a tutti non è tanto quello il fatto però basta non è possibile cioè io lo immaginavo che fosse comunque stancante giocare ogni tre giorni e tutto quello che volete ma non è possibile che se portiamo appresso l'infortunità non si sa quanto tempo C'è Pitelli quante partite ha giocato sanno un'altra volta rotto, un'altra volta, un altro centrale rotto, Klavan non so se ha rinnovato o meno quindi non lo so, Pisagane è rientrato oggi, Baluchievic si è rotto, Carboni fortunatamente ce l'avemo cioè, vabbè, abbiamo dovuto via Romagna cioè, non stiamo a parlare ovviamente di... cioè, Romagna non è che è Cannavaro però, adesso come adesso sarebbe stato utile, scelte del mercato proprio scellerate Cacciatore non ha rinnovato e a destra amo chi c'è, amo? Nessuno, Mattiello c'è, amo solo Mattiello e ci fanno giocare, io non è adattato, la cosa degli adattati se la portamo a presso, se la portamo a presso, non... è allucinante, è allucinante, veramente primo tempo orribile, primo tempo bruttissimo, uno dei più brutti che io abbia mai visto abbiamo fatto bene i primi dieci minuti, poi siamo scomparsi, Barrow ci mangiava in capoccia Barrow, Barrow ci mangiava in capoccia, faceva quello che cazzo voleva allucinante, poi abbiamo dovuto giocare con due tersini sinistri, nella stessa partita nella stessa partita, Ligogiannis e Pellegrini, che tra l'altro, regà, Ligogiannis è quello che mi sta sorprendendo di più, cioè, in questo periodo Ligogiannis è il migliore, ma in assoluto proprio, il migliore, io mi sono scritto un par di cose, che ne so, mi sono scritto appunto buoni i primi dieci minuti, il resto del primo tempo Cagliari è orribile, da quando è uscito Ceppitelli la difesa è peggiorata un pochino, ma capisco pure che due difensori centrali per carità hanno fatto bene la partita precedente contro il Torino, però c'era comunque un elemento di esperienza in mezzo, magari regge la difesa, due centrali, uno del 2001 e il 2001, magari è stato un attimino troppo, però per forza le cose bisognava far così, però per carità ci sta, ci sta assolutamente, non me la sento di fare particolari critiche oggi, a parte il fatto che una partita così è fisiologica, c'è la stanchezza di mezzo, c'è sta la sfiga perché non è possibile, poi, devo essere sincero, oggi avrei visto bene Cigarini, so che è un periodo che sta giocando male, ma secondo me oggi ci sarebbe stato molto bene perché tramite il gioco oggi zero, assolutamente zero, per un bel periodo della partita, diciamo, Pedro, Nandez, inesistenti, totalmente inesistenti, non lo so, una partita veramente di merda, e poi un'altra cosa che mi ha fatto incazzare, che magari posso capire il ragionamento, però non riesco a concepire, è il fatto che tu due cambi l'hai dovuto fare forzatamente, perché hai dovuto uscire prima Ceppitelli e poi Valuchevic, e ok, due cambi te li sei già bruciati, ti rimane uno slot in cui puoi fare tre cambi. Io capisco che la prossima la giochiamo contro l'Atalanta, ma i punti contro l'Atalanta non è che valgono sei se vinci, valgono sempre tre, come quelli che guadagneresti vincendo a Bologna. Quindi perché cazzo non hai fatto tre cambi, ma ne hai fatto soltanto uno? Per non rischiare qualcuno? Ma che senso ha? Prova a vincerla. Lì, in attacco, erano tutti spompati, tutti spompati, mancava qualcuno che potesse fare il contropiede, ragazzi sarebbe stato la manna dal cielo. Ma perché non l'hai messo? Ma che pensi che se vinci contro l'Atalanta gli danno sei punti? Non lo so, non lo so, non lo so, veramente, non riesco a concepire sto fatto, c'è la possibilità di farne cinque le cambi e te ne fai tre, ne fai tre su cinque, ne fai tre su cinque. Potevi far tranquillamente entrare il ragazzo, che non dico che avrebbe fatto colpe e forza, però la partita l'avrebbe provata a svoltare, ne so sicuro, perché non l'hai fatto entrare, per il rischio che ti si infortunava. Ma intanto provala a vince, provala. Che ti costa? Cosa ti costa? Non lo so, non capisco sto ragionamento, non lo capisco proprio. Niente, regà, so veramente incassato nero per questi cazzo di infortuni, perché non è possibile, non è possibile. E Clavan, e Pisagane, e Cepitelli, e Movaluchievic, e Pellegrini pure, che si è mezzo rotto. Non è possibile, non è possibile. C'è una difesa a pezzi, c'è una difesa a pezzi, e a me mi dispiace ripetere ogni cazzo di volta, ma varra il vietuto, passetti, pensaci due volte prima di dire le cose, pensaci due volte, perché prima di dire che non hai comprato nessuno sul mercato, perché sul mercato non c'era nessuno che fosse in grado di migliorare la nostra difesa. State zitto, state zitto, perché guarda mo' come stiamo messi, guarda mo' come stiamo messi. Non lo so, non lo so. In chiusura dei video voglio fare un elogio a Cicarini per il fatto che ha rinunciato agli ultimi due mesi di stipendio per rimanere a Cagliari, una cosa che secondo me è degna di essere menzionata, perché non è cosa da tutti. Infatti vedi Cacciatore che se ne ha nato è da una parte meglio, però mo' stiamo con le pezzi al culo perché in difesa non c'abbiamo nessuno, siamo veramente contati, perché sul mercato non c'era nessuno che potesse migliorare tanto la difesa nostra. Ma fanculo, passè. Niente ragazzi, mi ruote il culo, chiudo qui il video, fatemi sapere qua sotto nei commenti voi cosa ne pensate e detto questo non ci becchiamo in un prossimo video. Bella.